Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. Siamo in diretta. Il nostro ospite è il dottor Luciano Lozio, farmacologo, farmacista. Grazie per essere qua. L'argomento scelto è le vitamine. Vitamine fatti e misfatti, già nel titolo capite qual è il piglio che il dottor Lozio prenderà. Ma soprattutto un argomento che a mio avviso è davvero estremamente utile. Un po' perché c'è molta confusione e un pizzico di ignoranza. Poi perché ci sono sempre gli assertori che non abbiamo bisogno di tutte queste vitamine perché le assumiamo attraverso i cibi. Insomma, la polemica è sempre aperta a proposito di vitamine. Quindi dedicare un'intera serata, una Medicina Amica, a questo argomento specifico penso che serva a fare davvero chiarezza. E allora, direi di ripartire dall'inizio, anche se un piccolo cenno l'avevamo dato già nel nostro ultimo incontro. Spero che ormai la situazione per tutti noi e per voi che ci seguite da casa volga alla normalità e che quindi con animo più sereno ci accingiamo ad ascoltare le parole del dottor Lozio. Ovviamente poi potrete telefonare, le domande saranno libere purché siano attinenti all'argomento. Allora, vitamine. È da quando io sono bambina, quindi sono molti anni, che sento citare le vitamine come qualcosa di assolutamente benefico, indispensabile per la vita. Cioè, la mia mamma mi ha sempre detto mangia questo che contiene il vitamine. Ecco. Era una favola però. No, non è una favola. È un po' sì, stando a quello che lei ci ha fatto anche capire. Allora, una favola nel senso che le vitamine non sono una favola, sono una necessità senza la quale noi non possiamo assolutamente vivere. È una favola quella di mangiare cibi in cui sono presenti, perché lo vedremo nel corso della serata, le vitamine vengono degradate con estrema facilità o dalla luce, dalle basi, dagli acidi, come vengono trattate, tagliate. Cioè, sono tante le possibilità di andare a rovinare queste sostanze fondamentali e molto fragili. In più c'è il problema di averle nel cibo. Le vitamine si producono dopo un certo periodo di maturazione, quindi nella frutta è presente la vitamina, ma se io la riesco a raccogliere matura. Si è visto, hanno fatto delle sperimentazioni, l'arancia matura presa vicino a Catania, raccolta matura sull'albero, ha una quantità di vitamine decisamente buona, ottima, ma già la stessa arancia comperata a Milano, già se ne ha meno di un decimo. E siamo sulle arance, a volte arriviamo addirittura con delle frutte che sono raccolte a cerbe, dei frutti, e poi fatti maturare un po' forzatamente, che di vitamine dentro non ce n'hanno neanche un filo. Quindi, attenzione a dire, tanto io mangio. Tanto io mangio è un dato, che poi dentro ci sia quello che ci serve, è tutt'altro che scontato. Questo non deve essere comunque un alibi per mangiare male e ricorrere solo all'integrazione. Assolutamente. Senta, io però devo ripartire dall'inizio, che cosa sono e a che cosa servono. Sì. Allora, a cosa sono? Per fare una cosa, per spiegare in maniera semplice tutto il sistema, noi possiamo dire che la vitamina è un utensile. Nello smontaggio del cibo, io l'utensile non lo consumo. Quindi, io devo smontare il cibo, quindi da una proteina, devo ottenere degli aminoacidi, da una sostanza, ottenere altre cose, ma devo utilizzare queste sostanze, queste vitamine, che io posso comparare, per farla semplice, a un cacciavita taglio, a un cacciavita stella, a una brugola, a una chiave inglese, a un pappagallo, cioè i vari attrezzi che io utilizzo in un'officina per smontare qualcosa. Io se voglio smontare un pezzo di proteina, un pezzo di cane, ho bisogno di queste sostanze. Quindi, le devo oltretutto usare in una sequenza logica. Io non posso usare un cacciavite a stella e con quello risolvere tutto, perché se mi ritrovo una vita, un bullono, ho bisogno di una chiave inglese e di un ferro bullono, quindi ho bisogno di tutta un'attrezzatura. Un'officina, quante chiavi ha? Tantissime. Bene, il corpo umano smonta il tutto con nove, ne ha soltanto nove. Va bene? Con nove è risolto praticamente quasi tutto, perché abbiamo la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9, la B12 e poi abbiamo la vitamina C. Va bene? Quindi nove vitamine del gruppo B più una vitamina del gruppo C, ma globalmente dieci. Se noi andiamo in un'officina di chiavi ne abbiamo infinitamente di più. Quindi diciamo pure che l'officina umana del corpo umano è estremamente semplice. Poi abbiamo queste vitamine, questi cacciaviti che possono fare cose diverse. Possono fare a seconda se c'è l'ossigeno, se non c'è l'ossigeno possono fare un lavoro. Per esempio, vi faccio un esempio banale. Io prendo uno zucchero, uno zucchero classico, un glucosio, in presenza di ossigeno o in assenza di ossigeno faccio acido piruvico oppure posso fare acido acetico, a secondo dell'ambiente in cui mi trovo. Tiro fuori una sostanza o tiro fuori un'altra. Però in ogni caso io tiro fuori una molecola che poi vado ad utilizzare per produrre energia. Quindi a secondo dell'ambiente, perché io non posso sempre avere l'ossigeno, non posso sempre essere mancante, quindi il sistema mi ha detto, tu c'è un cacciavite, a secondo della luce che hai, fai una roba oppure ne fai un'altra. Ho capito. Ma io le devo chiedere subito, perché solo nove? Lei ha citato però quelle del gruppo B, ma la vitamina K, ad esempio la vitamina D. Quelle sono ormoni. Non sono vitamine. No, sono ormoni. Quindi la vitamina A, la E, la D e la K non sono vitamine. Vengono chiamate vitamine ma tecnicamente sono degli ormoni. Soprattutto la vitamina D è un ormone pesante. Quindi non appartengono, non lavorano, diciamo che non lavorano come lavorano le vitamine. Cioè non sono degli attrezzi. Se vogliamo li mettere all'interno di un'officina, uno è il compressore, l'altro sarà la... Cioè fanno altre cose, ma non sono i cacciaviti. Sempre indispensabili però. Fondamentali, non indispensabili. Cioè senza noi non possiamo aggambare. Però bisogna stare attenti perché non sono, non si possono equiparare le vitamine. Perché proprio fanno, svolgono anche dei lavori in maniera diversa. Non è la stessa cosa. Cioè la vitamina è un qualche cosa che lei usa, trasforma e poi torna come prima. Il cacciavite, quando l'ha usato mica lo butta. Il cacciavite ce l'ha sempre. Quindi sì, c'è nelle fatture dei meccanici, c'è materiale di consumo e ti spara su cifre assurde. Però tecnicamente un cacciavite ti dura qualche anno. Se proprio uno non è una capra che lo butta per terra e rompe le punte. Per cui diciamo che le vitamine lei le recupera sempre. Non ne ha dei grossi, colossali bisogni. Perché ci sono dentro questo utilizzo. Dopo vedremo dei passaggi che avevo già fatto vedere anche l'altra volta, molto complessi, che non sono poi neanche tanto complessi, ma in cui le vitamine sono utilizzate. Ma la vitamina A, quindi questa è la A, la E, la D, la K, queste quattro vitamine, proprio chiamarle vitamine non è proprio un termine corretto. Soprattutto la A e la D assolutamente no. Si comportano come ormoni? Si comportano come ormoni, sì, sì, assolutamente. E come tali vanno trattati, cioè per esempio si accumulano. Quindi le varie vitamine del gruppo B e la C, se anche ne mangio in eccesso, sì possono darmi qualche fastidio, ma tutto sommato le elimino, non è un problema. Mentre se vedete lo stoccaggio vitaminico, tranne la B12, che è una vitamina, è la più grossa di tutte, è molto grossa e non possiamo farne a meno. Per cui abbiamo l'opportunità di avere una scorta di 3 a 5 anni. Voi vedete che la A abbiamo una scorta da 1 a 2 anni. La B9 da 3 a 4 mesi, anche quella è una vitamina, è l'acido folico. Perché? Perché serve per la proliferazione cellulare, quindi la B9 e la B12 che lavorano in coppia, sono necessarie. La D, tessuto adiposo e muscoli, possiamo avere anche degli accumuli importanti con tutti i danni che ci sono. Abbiamo la E, sempre essendo liposolubile, tessuto adiposo, muscoli e fegato. Quindi se io ne mangio tanta di vitamina D, io ne accumulo tanta. Se io mangio tanta vitamina D, io mi fa bene, ma fino a 100. Se comincio ad avere 150, 200, 300, non va bene. Cioè comincia ad essere un eccesso. Qua vedete per esempio tutte le vitamine come vengono ad essere rovinate con estrema facilità o dal calore o dalla luce, dall'assidazione, dalla riduzione, dalla luminosità, dagli acidi, dalle basi. La vitamina C non è una vitamina facile da trattare. Gli ossidanti me la rovinano. Perché? Perché lei è un antiossidante. Ma se io la metto in contatto con gli ossidanti e non ci metto insieme qualcos'altro, io creo delle problematiche. La consumo, la butto via. E soprattutto le basi, vedete la vitamina B12 e la vitamina C, con le basi. Quindi se io per esempio faccio il lavaggio della verdura col bicarbonato, tutta sta bella roba, quindi la K1, la B1, la B2, la B5, la B12 e la C, me le frego tutte, ma non è che la D, la E, la B6, B8 e B9 vadano a spasso, vadano a siano felici. Insomma anche loro hanno dei danni. Senta, quindi per il lavaggio mi scusi e farò qualche regressione. Però per il lavaggio delle verdure non è consigliato il bicarbonato allora? E no perché, vedete, in giallo noi abbiamo una distruzione. Andiamo a degradare tutto. La B12 odia gli acidi e le basi. Non la trovate più. odia i radicali, odia gli Rx, quindi non è una vitamina facile da gestire. Cioè uno pensa, la vitamina è un qualche cosa che sta lì. Non è proprio così perché devo stare attento a come la uso. D'altro canto anche gli utensili, se io li tratto male li spano tutti. E poi non mi servono più un pifero. Scusi, per lavare le verdure, perché soprattutto l'acqua, vari risciacqui. Sciacqua con tanta acqua e basta. Perché c'è gente che per pulire... Ma qualche precauzione ad esempio per le donne gravide così, le avevo già chiesto penso. Allora il discorso pratico è che... Ma io ci raccomando, non so. Di lavare con estrema attenzione, ma non farmi... Facciamo il lavaggio con la mucchina, piuttosto che fare il lavaggio con il bicarbonato. Perché se io faccio questi lavaggi, vedete qui le ultime due righe? Eh sì. Faccio un massacro, eh? Eh sì. Ma faccio un massacro davvero. A quel punto mangio come verdure solo fibre, frutta solo fibre, che vanno bene. Ma non mangio verdure. Attenzione, non ne mangio. Quindi bisogna stare un attimino un po' in campana. La vitamina A se ne frega delle basi, gli acidi un po' gli fanno danno. Però soltanto la vitamina A, ma su tutti gli altri anche la B3. La B3 è una vitamina molto resistente, è difficile farla fuori. Vedete che... Eh sì, è quella che... È quella che resiste più di tutti, anche la più piccola. La più piccola è quella che resiste meno di tutti. La B12, invece, è quella che resiste meno di tutti. Perché è quella che subisce facilmente degli insulti. E' anche per questo che abbiamo delle buone scorte. Però vedete, nell'elenco di prima abbiamo la B9, la B12, la A, la D e la E. Ma non abbiamo K. E la K non è una vitamina banale. Perché è la vitamina che serve per la coagulazione. Ecco sì, lei intende poi ritornarci su ogni vitamina o le domande che le devo fare adesso? Sì, no no, io adesso tenderò. Però siccome io sono sempre piuttosto sproloquioso a parlare, se ha delle domande me le faccia. Perché non vorrei poi che alla fine non ci arrivo. Sulla vitamina K, io ricordo che dopo aver letto un libro, più che altro un opuscolo proprio per medici, per preservare le ossa, soprattutto delle donne in menopausa, ampi capitoli erano dedicati alla vitamina D, alla D3, però si diceva che andava presa in abbinamento alla K, alla K2. Ricordo di aver chiesto a un medico la sua opinione e mi ha detto bene signora, se vuol farsi venire qualche ictus, prego si accomodi. E sono rimasta abbastanza abasita. In realtà la vitamina K, per aver avuto sempre tanti cani, quindi qualche incidente di percorso, ricordo che viene somministrata in caso di avvelenamento. Sì, ma questo è per altre cose, perché ci sono molti veleni. Comunque lei lo diceva, la coagulazione. Sì. Ecco, ma la dobbiamo usare, la possiamo usare per le ossa o va manipolata con estrema cura la K? Allora, di K ce ne sono tre. C'è K1, K2 e K3. Quindi la vitamina K1 è per la coagulazione. Se un cane mangia un veleno che è scoagulante, mangiare la vitamina K si va a contrastare e si va a coagulare. Quindi prendendo troppa vitamina K si rischia. È pericoloso. È pericoloso, è chiaro. Però ai bambini, ai tantini, la vitamina K la si deve dare, perché il bambino piccolo non la mangia. Quindi vitamina A, vitamina D, scusi, vitamina K gliela danno. Quindi la vitamina K, quella che noi abbiamo, ed è sempre presente in tutti i cibi, si chiama filochinone, ne abbiamo quanto ne vogliamo. Questa molecola, poi, resta nella quella che non viene utilizzata per la coagulazione, passa nell'intestino e viene lavorata dalle scherichia coli. La santa scherichia coli, che tutti odiano perché le donne ce l'hanno come infezione meno pausale delle vie urinarie, ma le scherichia coli, ce ne sono tanti tipi, ma ce n'è una che è molto utile per noi. E questa scherichia coli, che cosa fa? Trasforma la K1 in K2. La K2 è l'unica vitamina che viene assimilata nel colon trasverso, quindi in una zona dove noi non assorbiamo più nulla, perché lui arriva, questa vitamina K1, nel colon, nel colon arriva alle scherichia coli, la trasforma in K2, e la K2 viene assimilata. La K2 a questo punto passa nel sangue e serve per il trasporto del calcio. Allora, la vitamina D serve per l'assorbimento del calcio, la vitamina K per il trasporto del calcio. In pratica, uno mette i mattoni nella cariola, la vitamina K è la cariola con cui lei porta i mattoni in cantiere. La K2? La K2. Quello che è importante da capire, ma veramente importante, è che se io in un cantiere continuo a accumulare mattoni, piastrelle, cemento e tutto quello che mi serve, ma non ho il muratore a lavorare, io la osteoporosi me la tengo. Cioè, parliamoci chiaro, la vitamina D non ha nessuna funzione per fissare il calcio sulle ossa, trasporta il calcio, lo fa arrivare dove serve, ma poi serve una cellula che si chiama osteoblasto che se non lavora non c'è niente da fare. E allora come la mettiamo? Non è semplice. Non è semplice. Bisogna sbloccare questa cellula. Allora, bisogna andare a fare un passo indietro. Io tutta la vita faccio il rimaneggiamento osseo, in tutta la vita. Costituisco e demolisco, cioè in continuo. Esatto, come la terra di penero, per il materiale è sempre nuovo. Cosa succede? Io con la gravità ho quelle che si chiamano microfratture, la microfrattura attiva l'osteocita, la cellula, la quale cellula attiva l'osteoclasto, che è il muratore che spacca, fa pulizia, è come se dovesse rifare l'intonaco. Arriva lui e mi tira via l'intonaco, l'osteoclasto. L'osteoblasto invece arriva e mi rimette l'intonaco nuovo sul muro. E io continuo a rifare continuamente per tutta la vita questo. Quindi per me è fondamentale avere la gravità. La gravità è fondamentale. Infatti il problema degli astronauti, che non si va su Marte, non è perché non ci si può arrivare, perché durante il tragitto dalla Terra a Marte, le ossa spariscono, non c'è più niente. Quando arriva su Marte, che c'è la gravità, questo non può fare nulla, perché lì c'è una gravità minore, ma in ogni caso c'è gravità, e questo non ha le ossa. Perché noi dobbiamo ringraziare la forza di gravità. Assolutamente, sì. Ma se lei nota, quelli che vanno a stare sei mesi sulla stazione spaziale, quando atterrano, li prendono in braccio. Li prendono in braccio, ma non so che... non devono camminare, perché se camminano si spaccano su tutti i tumuli, perché non c'è più ossa, quindi anche la colonna è trasparente. Se non andano a fare un'erografia, vedono trasparente questa persona, non c'hanno niente. Poi, siccome sono gente giovane e forti, rimettono il caccio senza problemi, non si preoccupi, che tornano perfettamente normali. Ma non subito. Quindi appena scesi, no. Perché c'è una gravità e loro non possono fare sforzo. Questo è il motivo. Per esempio, un altro dei motivi per cui non si può andare nello spazio fino a lontano è perché noi dovremmo ibernarci per conservare le ossa. Se noi ci iberniamo, blocchiamo tutto, quindi siamo a posto. Ma il problema è che l'ibernazione... Molta gente crede che si faccia alle temperature dell'azoto liquido, queste cretinate qua, queste sono robe da film, da film veramente di fantascienza. La temperatura di ibernazione è 22 gradi sopra zero. Non è sotto, è sopra. Perché se io congelo l'acqua con tutte le cellule, mi spacca le cellule e muoio. Quindi non posso fare questo. È abbastanza ovvio, no? Il ghiaccio è più voluminoso dell'acqua. Quindi io devo fermare i metabolismo e si è visto che il metabolismo si forma intorno ai 22 gradi. Quindi una condizione di ipotermia. Di ipotermia pesante, 22 gradi, diciamo che è bella fretta. Cioè se succede a una persona normale, muore. Però diciamo che a 22 gradi. Qual è il problema del non fare un'ibernazione e poi risvegliarlo riscaldando lentamente. Si è fatto a Bologna e hanno provato a ibernare un sorcio che non è ovviamente un animale ibernante e l'hanno risvegliato senza problemi. Perché i batteri nel nostro intestino a 22 gradi vivono benissimo. Per cui cosa succede? Che io ho i miei metabolismo bloccati, i batteri nel mio intestino sono vivi e questi si mangiano tutte le cellule. Quando io arrivo su Marte mi restano solo le ossa e basta. Perché fanno il lavoro che fanno nelle casse da morto. Quindi per poter andare su Marte io dovrei ibernare per proteggermi dalle ossa. Ma dovrei ibernare anche il microbiota e non ci riesco. Senta, ma allora quella ditta di ibernazione con quei 2.000-3.000 miliardari che ha una bufala? O perlomeno ha una truffa? Non lo so. Andremo a ricercare. Non lo so. No, comunque voglio dire sono concetti anche un po' folli perché ibernarsi per sconfiggere una malattia grave e risvegliarsi magari dopo 200 anni Tornando al discorso delle ossa della vitamina D allora ma senta mai come oggi viene prescritta e quindi l'indicazione diciamo principale è proprio quella di bloccare l'osteoporosi l'indicazione no noi lo abbiamo caldeggiata molto anche all'inizio del coronavirus dicendo guardate e poi ci ritorneremo spero che per il sistema immunitario è fondamentale però viene riconosciuta solo come vitamina ormone visto che lei la vitamina D ha un problema o meglio il calcio è una sostanza fondamentale cioè io devo avere nel sangue il cosiddetto tampone del fosfato calcio io ho due sistemi per tenere sempre il sangue a un pH molto 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 scasso ne ho due uno è il bicarbonato di sodio va bene quindi uno è questo ed è soprattutto a livello polmonare quindi con la CO2 l'altro invece è il fosfato calcio sono due sistemi tampone sono fondamentali sono regolati per cui io devo sempre avere una quantità estremamente precisa di calcio per poter fare il tampone del fosfato calcio è per quello che la vitamina D è fondamentale perché lo importa e lo mette nel sangue perché è lì che ci deve stare perché deve darmi sempre non deve essere poco e non deve essere troppo se io non mangio calcio o non ho la vitamina D per assorbire il calcio a quel punto il paratormone che è un ormone vicino alla tiroide va lui a prenderselo perché non possiamo farne a meno quindi il paratormone va nelle ossa che è il deposito si succhia fuori calcio e te lo mette nel sangue quindi se la vitamina D non mi porta calcio nel sangue il paratormone se lo va a prendere dalle ossa e a quel punto io mi depaupero le ossa ossa e denti però ossa e denti cioè dove c'è calcio allora è importante avere la vitamina D perché se io ho la vitamina D ho la possibilità di assimilare calcio di buttarlo nel sangue e quindi impedire al paratormone di andarlo a prendere dove è meglio che non lo vada a prendere questo è il meccanismo C'è un fondo di verità in quello che viene detto dalle persone che non consumano i latticini perché sono giornalista di un lungo corso e quindi ricordo gli anni in cui si raccomandava alle donne soprattutto quelle che andavano in menopausa ma anche ai bambini almeno due bicchieri di latte al giorno ora siamo passati all'estremo io sono tra quelli tra parentesi ho la mia responsabilità cioè consumiamo poco latte e vaccino perché quando parliamo di latte parliamo di latte e vaccino essenzialmente e molti sostengono che un consumo eccessivo di latte e vaccino e di latticini di derivati potrebbe portare proprio per conseguenza a un impoverimento del calcio per una sorta di squilibrio sì allora il problema è questo per assimilare il calcio per utilizzarlo io devo avere un rapporto ben preciso tra calcio e gruppi fosfati quindi io devo avere il fosfato tricalcico cioè tre molecole di calcio per ogni di fosforo allora io riesco veramente a utilizzare assimilare e a fare quello che devo fare il problema è che nel latte io ho il fosfato calcico quindi ho un rapporto uno a uno e non tre a uno quindi io tutto sommato il calcio nel latte c'è ma è di difficile assimilazione se non addirittura quasi impossibile c'è anche un'altra cosa noi assimiliamo bene il calcio e i minerali organici cioè legati a livello molecolare con un aminoacido con qualche sostanza organica per cui il carbonato di calcio tanto per intenderci non si assimila quindi quando mi vengono a dire e sostengono poi ci sono dei lavori che dicono di sì di no però pensare che un'acqua calcarea mi faccia assimilare l'acqua e scusi il calcio è un atto di fede cioè parliamoci chiaro se io prendo un'acqua che c'è dentro il calcio e io prendo quest'acqua e la bevo tutti i giorni non dovrei avere l'osteoporosi perché dovrei avere calcio a profusione perché ce l'ho Milano è una città con un'acqua calcarea che bisogna ogni volta mettere il calgor dentro non bisogna fare pubblicità nelle lavatrici perché se no si calcifica tutto in teoria se io prendo questa e la bevo dovrei avere calcio e non è vero non è vero perché non viene assimilato un figo secco perché non si amica delle piante noi le piante assimilano i minerali inorganici inorganici quindi il carone di calcio è un sale inorganico l'uomo no l'uomo ha bisogno di calcio organico quindi calcio pidolato aspartato l'icerofosfato e tutte ste bene menate quindi non è proprio la stessa roba non è così il latte il latte ha il problema di avere calcio che può essere anche complessato con delle proteine ma ha il grosso guaio di non avere tutto sto calcio rispetto al fosforo per cui c'è un po' di problemi diciamo che se va bene non ne assorbiamo niente se va male addirittura noi togliamo calcio dalle ossa per tamponare quindi è meglio di no allora tutto sommato c'è un fondo di verità cioè non è che dobbiamo poi se vogliamo consumare un po' di latte un po' di formaggio insomma allora ecco però non non ha questa non per questa finalità no se una persona vuole calcio ovviamente gli americani che sono proprio frutto di una cultura del latte del latte vaccino li vedi anche proprio in qualsiasi scena di film o telefilm che prendono la classica bottiglia del latte dal frigorifero e la go go insomma beh ma gli americani è meglio che bevano il latte perché soltanto si bevono whisky quindi la stessa maniera tra l'uno e l'altro si ha ragione meglio che stiano sul latte che perlomeno fa un po' meno male certo quindi no allora abbiamo chiarito abbiamo la prima pausa pubblicitaria però lo so che abbiamo esaurito parecchio tempo su questi punti ma sono secondo me fondamentali proprio perché leggi di tutto e di più e poi è anche difficile farsi un'idea a meno che tu non abbia degli studi scientifici e soprattutto studi molto particolari in questo campo guardi signora Tonella usiamo la logica se l'acqua di Milano è calcare e devo mettere un anticalcare io non dovrei avere l'octeoporosi a Milano usiamo la logica questo è usare la logica quindi uno arriva a capire anche se non sa la chimica però fino lì ci arriva non ci ha mai pensato nessuno va bene lasciamo la linea alla pubblicità sapete che è uno spazio veramente velocissimo e quindi vi prego di non distrarvi troppo magari di non cambiare canale se vi interessa questo argomento ovviamente di telefonare se volete fin da ora e poi niente vorrei un pochino indagare il tema del calcio nel sangue se si può depositare ecco perché anche questo è un problema abbastanza serio perché curiamo le ossa ma abbiamo anche da tenere sotto controllo il cuore giusto i vasi e il cuore e il cervello allora eccoci qua siamo in diretta ho già visto qualche telefonata molto interessante il dottor Lozio ci sta un po' tirando le orecchie perché più che sulle vitamine di cui dovremmo parlare vedo che c'è molto interesse su questo tema dell'osteoporose quindi della vitamina D che per eccellenza soprattutto la D3 viene prescritta e viene utilizzata con grande fiducia tra parentesi scopriamo questa sera che non è prettamente una vitamina ma come dice il dottor Lozio si comporta come un ormone e che ha questa valenza sicuramente fondamentale per l'osteoporosi volevo chiedere una cosa io spesso leggo i risultati di alcuni esami fatti da persone anziane della mia famiglia e da una parte hanno l'osteoporosi ma dall'altra hanno anche le calcificazioni nei vasi allora come la mettiamo questa cosa perché noi se noi abbiamo il calcio che va a finire vicino alle ossa e poi non è utilizzato perché io ho l'operaio morto o bloccato o ferito o insopro quello fatto come volete questo calcio alla fine rischia di essere mobilizzato però quello che mi fa depositare il calcio è la sua salificazione in presenza di determinate altre sostanze se io mangio per esempio pomodori il pomodoro è ricco molto ricco di acido ossalico se io mi ritrovo nel rene con un pH quindi con un'acidità intorno a 7 che succede perché la mattina è acida ma durante la giornata si modifica l'acido ossalico in presenza del calcio perché il sangue arriva nel nefrone esce il sangue e viene contata molecola per molecola ogni sodio potassio cioè proprio le contano come contapersone proprio perché è un filtro che deve rimettere in circolo un sangue perfettamente riequilibrato se io ho l'acido ossalico nel sangue e ho il calcio che è presente nel microtubolo che cosa fanno? I due si attaccano insieme e fanno i cosiddetti agglomerati di ossalato di calcio che sono quei maledetti calcoli che fanno venire un mal della malora quando dal rene perché nel rene non fanno nulla quindi quando uno ha i calcoli nel rene il calcolo si muove urina sangue ma non ha dolore si spaventa ma non ha dolore il dolore viene perché non c'è sensore del dolore il rene ma quando il calcolo poi cade nel bacinetto renale sente anche gli arretrati perché lì dentro è un calcolo fatto come tante lamette da barba taglia come un accidente fa un male inferocito ma è dovuto al fatto che il pH insieme con l'acido ossalico e con il calcio che è in eccesso crea questo salto di calcio il calcio sarà sempre presente nelle arterie qua e se non ci fosse perché il tampone fosfatocalcio che è fondamentale però se io ho radicali liberi se ho sostanze infiammatorie queste possono colpire la molecola che me lo trasporta il calcio e crearmi a questo punto queste infiammazioni questi depositi che sono assolutamente pericolosi assolutamente pericolosi va bene allora quindi ha senso assumere la K2 per abbinarla alla D3 allora se una persona ha la K1 cioè ha una coagulazione corretta fa l'INR cioè fa la prova della coagulazione ed è buona e non fa uso di antibiotici tutti i giorni la K2 non serve non è necessaria perché ne abbiamo a sufficienza tradotti in modo fisiologico se il soggetto o prende sostanze come gli inibitori diretti della K1 per esempio la varfarina sì sì questi farmaci che è un farmaco comune quello che poi e tra l'eserci vediamo dei topi ecco sì guardi stavo per dirlo io ma mi sono anche un po' frenata perché no no glielo dico io ma se lo dice lei ecco purtroppo questi farmaci che il topo si sente l'emorragia e va a morire fuori ma muore il topo perché c'è ma in emorragia quindi se uno non ha l'emorragia quindi per tenere il sangue fluido danno questi farmaci che sono veleno per i topi che è una una sostanza che però va monitorata con estrema attenzione ecco essenziale guai a non averla perché non avremmo più la K2 quindi se io prendo dei farmaci particolari se ho delle terapie antibiotiche ma non sarà il medico vero? certo dovrebbe essere il medico assolutamente a dare la K2 ma se una persona è normale non prende farmaci e mangia da persona civile la K2 se c'è la prende non è un dramma ma se anche non la prende è lo stesso va bene torniamo allora della vitamina D abbiamo già detto abbastanza diciamo che l'interesse oggi no non abbiamo detto abbastanza scherzo la cosa più importante non l'abbiamo detta la funzione fondamentale della vitamina D è immunitaria è immunitaria lei mi ha sgridato prima perché non parliamo della C e del gruppo B la vitamina D io l'adoro la vitamina D3 sì ecco teniamo presente che la D2 si ricava dalle piante mentre la D3 dalla carne quindi la differenza è quella lì quindi uno è l'ergo calciferolo l'altro è col calciferolo ma non cambia quindi quella che prendiamo viene dagli animali è sempre quasi sempre non posso fare la velocità dei nomi ma di norma è una D3 va bene di norma è una D3 la D3 poi alla fine deve passare nel rene il rene la fa diventare perché noi prendiamo la 25 con le calciferolo ma quella che è importante è la 1,25 quella che funziona quindi è questa vitamina che la sove poi insieme con la K2 fanno dei bei lavori perché c'è una specie di tenaglia che la prende su comunque è bello simpatico da vedere ma questo riguarda il calcio l'altra funzione fondamentale più importante di tutte per me è la più importante è che sta all'interno dei macrofagi e la presenza all'interno di queste cellule immunitarie di vitamina A e di vitamina D va bene serve a far produrre a queste cellule immunitarie due molecole una sono le defensine e l'altra sono le catelicine catelicidine allora noi abbiamo in totale nel nostro corpo quattro molecole una ad alto peso molecolare la lattoferrina e l'isozima due potenti disinfettanti ad alto peso molecolare e due a basso peso molecolare quando io produco le catelicidine ricordiamoci che io uccido qualsiasi tipo di virus in meno di un minuto il virus non ha nessuna speranza di campare va bene è fulminato immediatamente quindi se io ho la possibilità di produrre liquidi di avere la vitamina D e la vitamina A e di avere tutte e due insieme nel macrofogo io mi ritrovo con cellule immunitarie in grado di fare da spazzini di tutte quelle che possono essere batteri e virus è quello che ci ha permesso di vivere da diecimila anni parliamoci chiaro sono queste le mie difese fisiologiche naturali le catelicine le catelicidine tra parentesi la cosa buffa è che non è molto molti anni che l'abbiamo scoperta eh saranno neanche 15 anni quindi uno pensa che sia una roba vecchia e una roba abbastanza fresca di giornata ma sono molecole fondamentali piccole e cattive perché fanno dei buchi e per forno tutto per cui le fanno scoppiare virus e batteri perfetto guardi siamo riduci tutti da questo periodo scioccante con tantissime vittime lei prima ha detto una cosa mi ha fatto accapponare la pelle quasi sicuramente tutte le persone che sono morte per il covid-19 avevano una diciamo una carenza di vitamina D almeno questo è sistemico ma è sistemico cioè io raramente vedo degli esami in cui la vitamina D naturalmente è abbondante quando arriva a 30-35 siamo a posto non è vero il valore corretto è 70 i valori devono andare tra 50 e 100 con il cat-off preciso a 70 quindi una persona che c'è la 70-80 ha una vitamina D funzionali in quantità sufficiente il 30 è il minimo sindacale ma non vuol dire che a 30 io ho risolto il problema cioè ho la vitamina D per le cose essenziali per le funzioni essenziali ma non certamente per vincere una guerra pesante come quella contro il covid cioè non ce la faccio con 30 riesco a sopravvivere proprio a galleggiare ma non riesco ad avere quella potenza per rispondere vedi quanta gente ha fatto il covid e non se ne è accorta quanta gente l'ha fatto ma se ne è spangata in breve tempo e quanta gente anche grande e grossa è rimasta a letto tre settimane inchiodato stando molto male perché perché lo stesso virus identico in tutti ha manifestato la sua patogenicità in maniera così diametralmente opposta alcuni sono morti bueraci e mi dispiace ovviamente ma anche i medici ma sì ma sono morti non è perché uno è medico e ha la vitamina D ma uno è medico dovrebbe avere una cultura diversa sull'argomento di solito ciabattino mangiare con le scarpe rotte non voglio dire altro ma molto spesso questo succede cura gli altri ma molte volte non cura se stesso purtroppo io sono il primo me lo dico subito c'è un network che dice il medico cura te stesso io lo sono io do tanti bei consigli ma sono tragico mangiare perché io mangio in maniera piuttosto non vi dico come se mangio perché se no poi mi sgredite non mi credete più io vi dico le cose che dovreste fare poi io personalmente non sempre le faccio va bene perché sono un po' un crapolo quindi mi piace un po' ogni tanto va bene gestirmi in maniera diversa si poi da quali sa gestire bene i probiotici quindi si salva mi riesco sempre più o meno a venire fuori a scappottare bene perfetto ecco il problema è proprio questo cioè la dimostrazione che lo stesso virus non ammazza tutti alla stessa maniera ma si comporta in maniere totalmente diverse in uno nell'altro e in quell'altro una differenza potrebbe proprio essere questa la differenza di presenza di quantità di vitamina D uno che ne ha tanta teniamo presente che noi vediamo che eravamo reduci nell'inverno da mesi in cui il sole proprio non è che fosse tutta sta roba non è d'estate quindi siamo coperti fa freddo ci mettiamo su quindi non abbiamo tutta sta vitamina D già di nostro poi siccome fa freddo ci mettiamo sulla crema per le screpolature per non far seccare la pelle questa non fa passare i raggi quindi io trasformazione di vitamina D non ne ho d'inverno siamo tutti carenti proprio per perché il sole è quello che è per cui noi ci ritroviamo con persone che nel periodo peggiore in cui si attrae l'alla l'epidemia rischiamo di avere delle quantità di vitamina D non adeguate alle necessità per cui hanno avuto una malattia più o meno grave chi invece ne aveva tante vitamina D perché magari aveva avuto la fortuna di farsi una settimana bianca a sciare bello felice Giulio che c'aveva tanta bello oppure è andato al mare alle maldie oppure lo prende come integrazione oppure lo prende come integratore questi magari hanno fatto anche la malattia e non si sono neanche accorti perché hanno risposto nel modo più fisiologico e naturale che è esattamente quello della produzione delle catericine delle catericidine che sono queste molecole a bassa presenza molecolare che distruggono tutto ebola compreso quindi possono fare quello che vogliono senta ma lei ha citato anche la lattoferrina questa viene dal latte la lattoferrina è un derivato non del latte dell'acido lattico quindi sono delle molecole sono un po' diverse una cosa molto più sofisticata però come posso dire l'umile l'isozima ha comunque un suo valore l'isozima è una meraviglia perché proteggendo il cavo orale è una meraviglia e oggi lo fanno anche in formulazione spray quindi nasale si può spruzzare vede le prensi a un atleta uno che fa la maratona che gioca al calcetto che va in giro in bicicletta respira a bocca aperta arriva il virus gli va direttamente nel polmone salta la stazione in bocca salta quella settimana in cui si perde l'olfatto e il gusto in quella settimana il sistema immunitario gli piglia le misure quando questo prova ad andare nel polmone lo frega se io invece respiro a pieni polmoni mi arriva direttamente il virus nel polmone quella settimana che prima era una stazione in bocca mi finisce direttamente il polmone quando il sistema immunitario gli piglia le misure questo ha già fatto disastri grossi eh purtroppo vediamoci anche a questo credo che sia anche questo successo allora la notizia è buona però dobbiamo a questo punto ricordarci che soprattutto andando avanti con gli anni non riusciamo a essere sempre perfetti l'alimentazione non ci dà tutto nemmeno se ha una buona alimentazione quindi ci dobbiamo integrare insomma e poi ne vede cellule beta dell'isola di Lang sono quelle che fabbricano l'insulina in carenze vitamina D c'è una diminuzione della sintesi dell'insulina e da rendersi conto che serve per una quantità assurda di cose però perché è un ormone sembra svolge un'azione protettiva sembra la svolge va bene protettiva nel tumore colon rettale della mammella certo se io non ce l'ho alla fine uno si ammala di tumore al colon retto e chi ringrazia magari se ci avesse quindi la vitamina D andrebbe dosata sempre che non si prendi a capoccia non è che uno adesso perché parla della vitamina D da domani tutti a prendere vitamina D a struscio perché è pericoloso ha detto una statistica mondiale dove dice che quasi tutti siamo in carenza sì però quando si dice prendiamola alla fine la gente poi ne prende bigonzate no bisogna controllarla facciamo il test cioè non si può prendere la vitamina D così in quantità dice ma come la vitamina C un grammo due grammi ma si pigliamo le cinque grammi otto grammi no no quindi la vitamina D non può essere presa così cioè deve essere presa con un po' di criterio va bene perché è un ormone non si pigliano gli ormoni così tanto perché a quali rischi potrebbe portare alla calcificazione di arterie di reni di milza eh sì l'eccesso è sempre quindi basta un semplice esame ematico in sostanza l'esame del sangue una cosa importante sulle vitamine fondamentale ricordiamoci che c'è l'integrazione e la supplementazione non facciamo macelli l'integrazione è utile la supplementazione non sempre non per tutti non per tutti e non sempre supplementare significa andare oltre no portare un apporto molto alto non va bene e ritorniamo a quella tabella lì o abbiamo già detto tutto di quella tabella su quella sulla vitamina D penso adesso di tagliare allora basta sacra è fondamentale anche la vitamina A ma lì è più problematico bisogna la vitamina A ha delle scorte è fondamentale ed è la base della vista chi non ha la vitamina A non vede perché la sua trasformazione è proprio il sistema biochimico la trasformazione di una molecola di vitamina A in un'altra quindi un passaggio dalla forma trans alla forma cis è il meccanismo che permette la visione va bene quindi l'interconversione tra il retinale trans e l'isomero 1,11 cis retinale è alla base del meccanismo molecolare della visione è questo quindi è fondamentale e oltretutto bisogna stare anche attenti a una cosa la vitamina A è nel fegato viene accumulata nel fegato e quando serve all'occhio viene trasportata la vitamina A nell'occhio attraverso lo zinco va bene lo zinco prende la vitamina A e lo zinco la trasporta questa vitamina e la porta dove serve per cui una carenza di zinco chiaramente porta ad una difficoltà di trasporto la vitamina A dal fegato all'occhio e quindi si vede meno allora io lo zinco non l'avevo mai valutato preso in considerazione ma nell'ultima trasmissione il dottor Lozio ci ha suggerito proprio per prepararci a un eventuale ritorno del covid io sono convinta che ormai il peggio è passato e che quindi saremo tutti un pochino più tranquilli però hai visto mai lo zinco ci è utile vero? perché ha questa funzione che riesce a spaccare le molecole no ho capito niente ho capito niente no no non è che non ho capito niente abbiamo fatto velocemente lo zinco va a bloccare lo prendo comunque va a bloccare l'enzima cioè l'operaio ah ecco che serve al virus per farsi fabbricare l'RNA quindi blocca l'RNA polimerasi e poi siccome ci tengo alla vista e sappiamo tutti che uno dei peggiori problemi degli anziani è proprio quello di perdere la vista o di avere una forte riduzione allora direi che va molto bene tenere in considerazione vitamina A e zinco ecco e qui invece c'è una foto della slide di quello che riguarda invece la vitamina A attenzione anche al beta carotene quindi pomodoro e carote e chi per esso perché anche quello attenzione l'integrazione protegge dai tumori la supplementazione te li fa venire quindi anche qua diamoci i cauti va bene la vitamina A l'olio di figlio di merluzzo ha curato montagna di gente che è vitamina A e vitamina D funziona benissimo però attenzione a non esagerare soprattutto nei fumatori questo studio del 1996 porta risultati molto strani sconcertanti 28% di tumori volmonari di sistema di malattia complessiva 26% dalla dovuta malattia cardiovascolare quindi tutta sta bella vitamina A calma e sangue a freddo e poi non confondiamo la vitamina A retinolo retinale e gli altri con i retinoidi che sono molecole simili ma non sono vitamina A e quelli sono teratogeni sono quelli che si usano per l'acne quindi calma e sangue a freddo perché non è la stessa roba quindi impediamo di non fare di tutto un erbo a un fascio perché è pericoloso devo dire che i retinoidi sono una delle componenti essenziali della multiterapia di bella comunque anche se il professor Luigi aveva fatto una formulazione molto speciale ma funzionano bene io non sto dicendo nella cura del tumore o anche a livello preventivo però questa cosa ad esempio il consiglio di non consumare troppe carote da parte dei fumatori cioè io l'ho captato qualche anno fa proprio da se poi smettessero di fumare sarebbe anche meglio sì beh ovviamente cioè però magari i fumatori proprio perché sanno quale rischio corrono magari eccedono con le carote cioè c'è stato un periodo in cui ci dicevano le carote le carote mi ricordo un po' per la bronzatura un po' per la protezione un po' per la vista mi ricordo che non c'era giorno in cui non ci fossero zucchiere di carote la cosa che mi fa ridere è questo tutti stiamo a pensare no perché abbiamo paura del covid ma io direi che se pubblicassero ogni giorno i morti per tumore in Italia e nel mondo cioè probabilmente saremo ancora più sconvolti perché sono molti di più di quelli che abbiamo ma ricordiamoci di mangiare le carote vere le carote vere non le mangia nessuno come non le mangia nessuno io le mangio me non le mangia le carote che colore hanno le carote sono arancioni no sono viola scuro le carote sono viola scuro le vere carote le carote naturali le carote genetiche quelle anche dipinte sui quadri del 500 sono viola scuro viola scuro senta adesso non so nei ristoranti gurumeti danno le patate viola le cose viola è tutto viola adesso la carota vera è viola è viola è viola e degli orange perché è una carota farloca che è venuta fuori in Olanda e siccome la casata regnante in Olanda è la casata degli orange l'ha chiamata così ma le garantiscono che la carota vera non è ci sono dei miti che sono sono dei miti che si chiama il turipano mica è olandese è turco quanti lo sanno un pochi se non avete visto ecco la carota vera questa è la carota vera viola non è rossa bene non mancherà d'accordo abbiamo un attimo divagato comunque no per dire che comunque sempre estrema attenzione e precauzione perché comunque qualunque vitamina abbiamo visto le vitamine simili a ormoni ma anche le proprio le vitamine non bisogna eccedere ad esempio poi arriveremo a parlare della B12 che è preziosissima indispensabile in alcuni casi però anche questo qui maneggiare con cura perché anche è anche un un fattore di crescita posso dire così insomma un moltiplicatore è più la 9 la 9 la 9 è molto pericola l'acido folico so che gli oncologi ad esempio non prescrivono le vitamine B9 non le vogliono mai perché sono due vitamine che servono per far produrre le cervelle diciamo che quella che secondo me funziona più di più è la la B9 cioè l'acido folico il tetrito folato quello lì è l'acido folico ecco sempre per la protezione del cuore vogliamo entrare nel gruppo nobile delle vitamine B andiamo nel gruppo che sono abbastanza sconosciute però no sconosborina insomma al di là di quel famoso sciroppo che si dà nell'infanzia dopo poi lo so benissimo finisce per total ecco allora la B1 cioè che la B1 ha due funzioni ci sono due forme di vitamine B c'è la tiamina e la tiamina e la trifosfato la tiamina e la trifosfato lavora sulla degradazione sull'attivazione di un enzima che degrada la citricolina quindi permette di far funzionare al meglio il sistema nervoso quindi è fondamentale per il sistema nervoso per poter permettere il funzionamento ottimale delle connessioni nervose invece la è una cocarbossilasi è un trasporto di un gruppo al devale insomma questi sono questioni di chimica complessa la seconda funzione invece della tiamina è indispensabile nel metabolismo dei carboidrati e andrebbe assunto in proporzione a quanti carboidrati si mangia tra parentesi va bene quindi ogni mille calorie consumate dobbiamo aggiungere un po' di milligrammi di vitamina B1 cosa fa la vitamina B1 trasforma lo zucchero in piruvato come vi dicevo prima e in acetato secondo se c'è l'ossigeno o se non c'è l'ossigeno e questo permette di dare la materia prima alla ci serviva ancora quella slide e poi a produrre energia la slide ci serviva grazie che cosa per spiegarvi un attimino in pace perché la B1 non ha molto senso dire solo B1 bisogna dire B1 B2 B3 però B1 quando c'è carenza di B1 carenza grave da noi non c'è più parliamoci chiaro però le carenze subcliniche cosiddette sono molto più di quanto uno possa pensare perché quando una persona è carente quindi non è che è senza ma è carente ha una problematica è una persona che non ce la fa è stanco è perennemente stanco su quelle persone che non riescono ad avere quell'energia quel minimo di energia per tirarsi un po' su e in una lingua che tutti conoscono che è il cingalese penso che anche lei la conosca no cingalese quando una persona dice non ce la faccio in cingalese si dice beri beri il beri beri è la malattia classica di chi è carente di vitamina B1 noi non abbiamo questa carenza grave ma abbiamo una carenza subclinica molto poco identificata ma molto poco identificata la B1 è una vitamina che quando non è presente in quantità sufficienti crea dei grossi problemi a tutti perché? perché voi dovete capire che per vivere noi abbiamo bisogno di energia penso che tutti lo sappiano siamo d'accordo eh siamo d'accordo per avere l'energia oggi che cosa devo fare? ho un pozzo di petrolio va bene? che è la molecola di glucosio vado con questo petrolio in una raffineria e trasformo il petrolio in piruvato e in acetato cioè in due in due liquidi che uno si chiama benzina e l'altro si chiama gasolio va bene? la vitamina B2 va bene? prende il questi due sostanze gasolio e la benzina e la trasporta la trasferisce al distributore di benzina quindi la B2 trasforma ecco qui si vede il diagramma dalla nostra raffineria al distributore di benzina la B2 fa questo lavoro di trasporto perché produce il FAD poi lo vedremo il distributore di benzina mette la benzina attraverso la vitamina B3 nel serbatoio della mia macchina e la mia macchina viaggia se io non ho il serbatoio cioè non ho il distributore che ha la benzina o non ho quello che me lo trasporta o non ho il petrolio o ce ne ho poco tutta la mia economia la mia macchina tutto viaggia a rilento quindi non è una questione solo di B1 ma è di B1 di B2 di B3 tutte e tre perché se me ne manca uno sono fregato io non vado da nessuna parte come produzione di energia quindi io o mangio va bene o la materia prima o il petrolio ma se non ho la raffineria cosa me ne faccio è il petrolio senta ma in commercio diciamo la verità è difficile che si trovi la B1 se uno non la va a cercare espressamente come ad esempio la curiosità lei ci ha detto nell'altra puntata che la B1 in questa stagione di punture e di insetti ci sarebbe molto utile perché ci fa emanare un odore non dica lei un odore che non si percepisce che però per fortuna le zanzare femmine odiano ecco perfetto e quindi potrebbe essere la soluzione perché compriamo tanti spray tante cose chimiche a volte o anche naturali per l'amor del cielo con un'efficacia modessa sperando di non incrociare la zanzara con il raffreddore hai ragione vabbè no diciamo a parte quello se uno non ha questo specifico problema come potrei avere io non è che se la va a cercare però in commercio ci sono delle formulazioni diciamo complessi di vitamina B hanno un valore quindi hanno un significato va bene perché per noi consumatori per noi persone normali è molto più semplice no? sì anche perché non è che ne serva poi tantissimo perché ad esempio la B2 c'è stato un periodo in cui anche io ho cercato di utilizzare anche poi la riboflavina no? perché a livello oculistico se ne parla molto adesso ad esempio noi abbiamo l'oftalmologo che ha studiato moltissimo la B2 e quindi va bene se uno non ha un problema particolare però diciamo che non è che va a prendere a livello specifico la B2 è una vitamina strana non esiste insieme anche con la B8 un'evidenza di carenza la B8 se uno può essere carente se è un grande mangiatore di albume d'uovo perché è un sequestrante la vidina contenuta è un sequestrante di B8 però insomma bisogna darci dentro e mangiare la B2 è la vitamina che colora di giallo è il colorante giallo giallissimo e non va via poi una volta che macchia resta ed è una vitamina di cui non abbiamo giacenze è sempre presente ed è chiamata anche colorante E101 quindi qualche volta quando uno vede questi coloranti non è che sono tutti veleni quando uno vede queste sigle come E300 c'è un colorante E300 conservante E300 è semplicemente la vitamina C si chiama E300 non è che è acido ascorbico vediamo di non criminalizzare poi tutto il strano purtroppo ci sono molti additivi ci sono molti coloranti chimici che tritura qualche d'uno anche cancerogeno assolutamente che purtroppo vengono messi io ricordo il primo elenco è stato stilato proprio da il centro di Aviano il centro oncologico dove abbiamo trovato veramente tante brutte sorprese adesso però vi dico che dobbiamo interromperci per un paio un minuto e mezzo all'incirca e continuate pure a telefonare e va bene magari non saremo proprio non saremo dati in ordine non abbiamo stampiamo le scalette poi non le rispettiamo facciamo impazzire la regia con il materiale però insomma penso che qualcosa vi sia rimasto in testa e che soprattutto alla fine della trasmissione abbiate un pochino più le idee chiare di cosa è veramente essenziale per la nostra salute per stare un pochino tutti più tranquilli eccoci qua a proposito di memoria io non mi ricordo più dove eravamo sì eravamo arrivati all'analisi della vitamina B2 e in generale l'importanza delle vitamine del gruppo B la pubblicità se ne è accorta molte case farmaceutiche o di integratori sembrano proprio aver lanciato le vitamine B che abbiamo suggerito si trovano in formulazioni in complessi ecco quindi più semplice anche l'assunzione se guardiamo quella che viene dopo di questa si vede proprio il meccanismo che noi abbiamo per creare per spiegare cosa servono noi abbiamo oddio dottor Lozzo questo è difficilissimo eh glutatione cedono vedete quella freccia che c'è mi prendono dal NADP mi diventa NADPH2 il NADPH2 scarica questi due idrogeni al FAD va bene il FAD lo ridà al glutatione e il glutatione ritorna come prima e nel contempo quando il glutatione con l'H che sono due GSH lo cede vedete che l'acqua osigenata diventano due molecole quindi elimino un potenziale radicale libero perché H2O2 è agosigenata e pericolosa e mi crea due molecole di acqua vedete praticamente questo idrogeno va trasportato vi faccio un altro esempio voi avete un gruppo un gruppo OH un gruppo H è un radicale libero questo gruppo H arriva sulla parete di una cellula quando arriva sulla parete della cellula arriva la vitamina E la vitamina E è liposolubile la membrana è grassa se la cattura e prende questo gruppo H e la vitamina E si ossida ok la vitamina E va sul citosol e scarica questo gruppo H alla vitamina C la vitamina C d'acido ascorbico diventa di idroascorbico ok l'acido di idroascorbico a questo punto si ritrova con questo gruppo H che non sa cosa diavolo farsene va bene perché è un cerino acceso quindi io ho il cerino mi sembra il giochino del cerino ce l'ho lì lo passo a tetto lo passi alla fine qualcuno si brucia le dita non se ne brucia nessuno perché arriva questo GH vedete GSH va bene si prende lui quello sotto si prende l'idrogeno va bene lo cede al gruppo H e un H più uno H che cosa fa? acqua io ho sto cerino e lo spengo ma non faccio solo questo perché io mi ritrovo con il GSSG cioè questa glutatione particolare che può accettare nuovi idrogeni quindi mi rientra nel ciclo ma soprattutto io avevo il di idroascorbico cioè la vitamina C ossidata che mi ritorna ridotta cioè mi ritorna operativa cioè mi ritorna una vitamina C che si può beccare un'altra volta sto cerino acceso quindi la vitamina E lo prende si rovina lo cede la vitamina G la vitamina E torna nuova la vitamina C lo cede al al GSH e lui la vitamina C torna nuova e GSH torna nuova anche lui ma intanto si forma acqua quindi è il giochino del cerino che se lo tiene in mano per cui tecnicamente e noi tutto questo come lo otteniamo? assumendo il complesso avendo queste vitamine avendo la vitamina E quindi quando io dico che una sostanza non è un antiossidante c'è un sistema antiossidante ho capito questo è un sistema antiossidante come esiste il sistema della vitamina E della vitamina C esistono dei sistemi che riescono poi alla fine a produrre che cosa alla fine qui trasporto gli idrogeni e produco acqua in un altro caso produco acqua prendendo l'idrogeno con un gruppo O o H dietro quindi la vitamina C non è in verità un antiossidante è un anfotero cioè fa tutte e due le cose e senta però se torniamo alle cose concrete cioè alla vita quotidiana ad esempio al periodo che abbiamo passato anche questa è stata contestata la vitamina C molti sostenevano vitamina C ad alto dosaggio per affrontare lo stress della pandemia e no vitamina C non serve a niente ecco queste sono le due diciamo le due versioni principali allora se c'è un'alta un'alta infezione c'è un'alta possibilità di fare tanti radicali liberi io ho bisogno di tanta vitamina C quindi io devo prendere anche dosaggi elevati due, tre, quattro grammi non è un problema addirittura in Ciro si elevate anche otto grammi in endovena quando c'è una malattia acuta io produco tanti radicali ho bisogno di tanta vitamina C nella fisiologia normale quando una persona non è sottoposta a uno stress da covid ma sta tutto sommato come stiamo noi adesso senza problemi grossi tutta sta vitamina C in quantità industriali non ha molto senso ne basta anche due grammi al giorno sono più che sufficienti però attenzione perché se ne prendiamo di più in tempi di pace se ne prendiamo di più noi andiamo ad agire sull'assimilazione del ferro e potremmo creare dei problemi da eccesso di ferro il ferro in eccesso è tossico quindi bisogna stare piuttosto oculare ci fa assimilare più il ferro e sì perché la vitamina C è proprio una vitamina che permette l'assimilazione del ferro che è fondamentale ma se è troppo non va bene crea dei problemi dagli epotocarcinomi ce ne fa un sacco non la vitamina C diretta ma li fa il ferro cosa fa nel sistema immunitario nel sistema immunitario lavora su una proteina particolare allora noi abbiamo una cellula la cellula si deve muovere il macrofogo si deve muovere all'interno della nostra del nostro corpo per muoversi ha bisogno di avere dei movimenti si chiamano ameboidi cioè si deve allungare strisci un po' come fa il verme no? si allunga si striscia per muoversi abbiamo tutti presenti hai ragione perfetto si deve muovere questo movimento presuppone che all'interno della cellula del macrofago ci sia un sistema un'intalaiatura che sia ammovibile che si possa muovere ora la vitamina C lavora proprio su una proteina che monta e smonta le strutture interne si chiama tubulina 2 la proteina lavora su questa proteina particolare che permette al macrofago di avere questo movimento ameboidi e quindi di spostarsi di muoversi bene per fare un paragone che capiscono tutti se io ho una macchina dalla volante che deve inseguire un ladro lo insegue con le gomme gonfie con le gomme sgonfie bene la vitamina C tiene le gomme della macchina gonfie in modo tale che questa macchina questa cellula si possa muovere inseguire e andare a catturare perché se io dentro ho le catericidine o le difensine o tutte le menate che mi servono quindi la macchina della polizia è armata in tutto punto con bombe, granate e fucili ma non si schioda dal parcheggio cosa me ne faccio? per cui ho bisogno della vitamina D ma ho bisogno della vitamina C allora torniamo scusate un comunicato alla regia torniamo all'altra slide all'altra tabella in cui si potevano notare perché il dottor Lozio le ha elencate tutte le importanti funzioni della vitamina C perché ecco ad esempio la sintesi del collagene non è poco le donne della mita lei guardi cosa ho messo in fondo attività antiradicali c'è sempre che faccia solo quello è l'ultima delle sue funzioni guardate cosa diavolo fa ne fa un mare tantissime allora la sintesi del collagene a me va benissimo giusto? il problema della vitamina C che deve essere fatta penetrare sotto cute per cui occorre che la preparazione di vitamina C sia fatta in neosomi di memoria mamma mia ma io non intendevo farmi le iniezioni si deve fare le iniezioni in crema ah in crema in crema deve essere inglobata all'interno di liposomi un po' più intelligenti si chiamano neosomi di memoria che permettono la veicolazione attraverso la crema perché lo strada la pelle c'ha le scaglie corne c'è un passarega la roba non è che è facile far passare uno mette su e va io per poter far passare perché la pelle oltretutto è grassa c'è uno stradio di grasso e per fortuna per fortuna la vitamina C di per sé è idrofila quindi col grasso non ci passa per cui per farla andare nel sottocute andare nel tessuto spinato a creare proprio il collagene io devo veicolarlo sotto la pelle e per farlo ho bisogno di questi trasportatori di questi autobus che me lo portano sotto problemi di chi si occupa di cosmetologia però però se lo assumiamo per bocca non ha la stessa funzione funzionicchia anche lui però diventa in tutto il corpo perché è andata via la roba quella tabella proprio non gli piace a Francesco o a Yassin assorbimento del ferro poi protegge questo è un problema serio perché mi aumenta l'assorbimento del ferro e ci possono essere dei grossi problemi non da vitamina C ma da ferro perché il ferro è un brutto cliente serve ma bisogna usarlo con le pinze protegge dall'ossidazione la vitamina B9 cioè l'acido folico e la vitamina E quindi ma è questo acido folico non so se ci arriveremo mai ma è davvero così indispensabile senza siamo morti ma quindi ha senso anche un'integrazione so che adesso incomincia a essere data un'integrazione giornaliera bisogna anche qua andarci cauti perché se io vengo a dare un'integrazione eccessiva è stimolante la proliferazione la parola stimolare la proliferazione non è bella no mi fa pensare a una brutta cosa esatto e infatti cosa danno nei tumori soprattutto il tumore a seno anche ma anche in altri danno un farm che si chiama metotrexate va bene che blocca proprio la vitamina B9 perché se io la blocco blocco il tumore quindi bisogna averla la vitamina B9 ma non in eccesso come faccio a sapere se ce l'ho giusta magari ci sono dei range ma basta andare a fare l'esame della omocisteina e andare a vedere com'è il valore sono tre le vitamine che lavorano sulla omocisteina la B6 la B9 e la B12 va bene le dovrei avere sempre tutte e tre perché se io ho la B12 io ottengo dall'omocisteina la metionina se io ho la B12 se io ho la B12 se io ho i squadri sulla B6 ottengo la cisteina però io l'omocisteina in ogni caso la smembro a pezzi quindi sono fondamentali tutte e tre perché uno tira fermo e l'altro tira via i pezzi tanto per essere chiari l'omocisteina è pericolosa perché è un fattore coagulativo quindi mi possono partire trombi coaguli quindi posso avere infarti e chi più ne ha più ne metta quindi l'omocisteina è davvero un fattore di rischio va tenuta il più bassa possibile più è bassa e mi scusi per capire se non c'è stato un eccesso di assunzione di acido folico lei ha suggerito di fare l'esame dell'omocisteina si fa l'esame del sangue l'omocisteina e l'esame del sangue quando si fa l'esame del sangue si dovrebbe fare sempre almeno la B9 cioè l'acido folico la B12 e l'omocisteina quindi dobbiamo andare a fare un dosaggio bisogna fare il dosaggio e qual è il dosaggio corretto dell'omocisteina più bassa possibile l'acido folico può andare 12 15 può andare bene 20 12 15 cioè non deve essere eccessivo non eccessivo poi dipende anche dalle scale che ci sono ma diciamo che intorno a 20 possiamo andare sul tranquillo ne abbiamo abbastanza c'è una scuola di pensiero che dice di assumerla tutti i giorni per lungo periodo no insomma io non lo farei va presa tutti i giorni non per lunghissimi periodi quando la donna decide di avere una gravidanza di voler restare incinta se vuole una gravidanza a questo punto deve averla prima di restare incinta e poi per i primi tre mesi deve avere dei bei dosaggi questo sì perché se no il bambino nasce con la spina bifida perché c'è un blocco nella applicazione della brastola senta è vero che per agevolare la gravidanza è importante anche la vitamina E sì perché rende le membrane più facili più fluide perché no perché è uno dei grandi problemi oggi è anche proprio il tema dell'infertilità che dipende spesso dalla donna e quindi sarebbe una buona notizia in sostanza questa quindi poi vediamo allora andiamo avanti allora interviene nella sintesi della carnitina il metabolismo dell'istamina significa che che aiuta a tenere bassa l'istamina l'istamina sì quindi avere meno pruriti attivazione immunologica ma soprattutto dormire dormire perché l'istamina non fa dormire mi raccomandi c'è l'eccettore H3 che non fa dormire quindi se io ho istamina ho un'onda portante di 2 Hz e non c'è verso di dormire 4 occhi spalancati se non blocco l'istamina non si dormirà mai poi l'attivazione immunologica inibizione la formazione delle nitrosamine e questo è importante perché attenzione quando io mangio soprattutto la cana alla brace facilmente io posso formare delle nitrosamine ma dove? le formo nello stomaco io mangio due sostanze separate le amine che sono gli aminoacidi io ho la proteina che mi arriva per intero la frazione nello stomaco mi resta un aminoacido mi si lega con i gruppi nitrati e mi forma la nitrosamina questa nitrosamina è una sostanza teratogena pericolosa cioè teratogena tumorale cancerogena chi è che forma la nitrosamine? non le formano tutti ma le formano con grande facilità le persone che purtroppo prendono i PPI gli inibitori della pompa protonica cambiando il PH fanno venire tante di quelli nitrosamine da paura quindi andare a dire che i PPI non fanno danni scavano le fosse perché se io formo nitrosamine dopo non ho da venirmi a lamentare come mai mi sono venuti dei tumori cioè gli antiacidi no gli inibitori della pompa protonica ah sì quelli che si danno però quando hai la gastrite o così noi abbiamo gli antiacidi però no ha ragione poi ci sono però comunque vengono dati molto adesso andrebbero presi per un tempo gli inibitori della pompa protonica ma sono chiamati in modo sbagliato protettori gastrici i protettori gastrici non sono protettori non sono dei magnaccia quindi lo garantisco fanno dei danni terribili va bene e uno dei danni terribili è questo allora se io quando mangio ho la vitamina C non le faccio formare non la faccio formare se si è formata non lavora più non mi serve più quindi la vitamina C inibisce a livello gastrico quindi un soggetto che mangia e prende i PPI dovrebbe giustamente prendere anche la vitamina C per evitare la formazione di terosamine ma il medico dovrebbe dirglielo però dovrebbe dirlo dovrebbe anche essere scritto sulle scatole ma non c'è scritto sono tante le cose che dovrebbero essere fatte allora possiamo dire benedetta vitamina C giusto? assolutamente sì ma non è solo lei noi abbiamo dimenticato poverina una vitamina fondamentale per una patologia comunissima ma veramente comune che è la vitamina B3 la B3 che è quella che poi resiste a tutti calci, pedate quella che resiste veramente a tutto la vitamina B3 è essenziale per una patologia banalissima banalissima non è che tanto ma che affligge una quantità di gente impressionante che sono l'intolleranza alimentare l'intolleranza alimentare perché la vitamina B3 quando è presente fa frazionare le molecole e se le fa raggiungere un peso sotto ai 6.000 ad alto che è un'unità di misura del peso atomico quando io ho un aminoacido quindi non una proteina ma un aminoacido solo io ho molecole che non mi possono scatenare la reazione immunitaria semplicemente perché il sistema immunitario non le vede troppo piccole quindi quando io ho nel mio intestino tanta vitamina B3 io vengo ad avere un frazionamento delle proteine molto accurato e quindi mi ritrovo con problematiche di intoleranza alimentare molto ma molto basse sto bene è molto interessante più io mangio proteine più devo avere vitamina B3 attenzione anche qua non pigliamola a capocchia ne servono 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 qual è il problema che crea la gente dice che bello c'ho questo mangio pigliamone soio mezzo grammo 500 100.000 attenzione perché dà delle vaso di elitazione violente improvvise e uno gli viene un flascutane diventa tutto rosso come un peperone si piglia uno spavento della mano non succede ne nulla ma si piglia uno spavento quindi non esageriamo se io prendo la vitamina B2 urino un'urina di un giallo canarino veramente imbarazzante mamma mia che so sono diventato perché proprio è molto giallo se io prendo tanta vitamina B3 50-100 mg in una botta mi vengono questi questi improvvisi rossoli da vaso di elitazione che possono spaventare le persone non fanno nulla ma non c'ha senso quasi una vampata ma peggio peggio di una vampata non è calore diventi rosso come il peperone non vedo poi c'è anche l'autismo caspita quindi studi dimostrerebbero che la vitamina B3 cosa fa aiuta aiuta la degradazione proteica per cui non crea dei peptoni che sono irritanti che abbiamo visto che la vitamina B3 non se la fila nessuno perché non è una vitamina tanto studiata e tutti va bene vanno sempre alla B12 sì la B12 ma mea possiamo dire che non sia importante quello che lei ha scritto nell'ultima frase va tradotto vitamina B3 e ADP ribossilazione che catalizzano questa reazione a livello degli stoni sempre protegge il DNA dalla replicazione cioè quando io ho una replicazione se io ho la vitamina B3 insieme con gli inibitori della si chiama gli stoni dei acetilasi io vado a proteggere il sistema da un'eventuale duplicazione sballata quindi quando io faccio la duplicazione duplico bene non duplico valordo serve sì anche per i tumori ma soprattutto serve per duplicare una cellula che sia sana e una cellula che magari si duplica male quindi mi trasferisce poi un DNA valordo sì sì un'informazione non corretta è importante molto più importante di quello che si vede la gente l'ha sempre molto sottovalutata no la gente conosce solo la la B12 la B12 l'acido folico perché gli hanno anche la B6 per esempio attenzione perché se uno ne prende troppo rischia la pelle perché ci sono stati casi di shock anafilatico con morte da B3 da B6 scusi da B6 quindi anche la B6 non è tutta sta sicurezza che è bello la piglio la piglio calma se ne piglio un po' ma non se ne deve pigliare tanta anche la B6 qualche macello lo combina gli eccessi qua stiamo parlando di un'officina in cui mi servono i cacciaviti le pinze e le tenaglie non servono mettercene 50.000 mettiamocene alcuni ma non mettiamole troppo perché poi il troppo storpia sempre e rischiamo di fare dei più danni che i benefici quindi non esageriamo questi cosa sono i segni di carenza della B6 della famosa B6 vitamina B6 sono astenia depressione quindi una persona è un po' giù un po' bassa allora pigliamo la B6 diamocela dentro una volta mi ricordo tanti tanti anni fa parlo di quasi 40 anni fa quando una persona aveva il vomito si usava un prodotto che si chiamava cortigen B6 e più di un bambino ha fatto la puntura contro il vomito e ci ha lasciato le penne perché la vitamina B6 può creare queste forme di allergia pesante va bene? quindi attenzione a a implementare delle terapie con tutte queste vitamine ma si piglia tanto cosa vuoi che faccia una vitamina perché questo è entrato siccome quelle liposolubili la gente un po' comincia a capirlo ma quelle idrosolubili la gente ma tanto se ne prendo tanta l'aurino mica vero questo è un caso che si l'eccesso l'aurino ma se per caso lo pigli e sei allergico ci lasci le penne quindi non è che stai male muori è la prima volta che ne sento parlare ci sono stati infatti l'hanno ritirato dal commercio quel farmaco lì perché si usava per chi aveva il vomito quei vomiti incoercibili da acetone sparavi dentro finiva passava il vomito ma a volte deve esserci una reazione avversa deve esserci un po' di grano salis quando si fanno le integrazioni pigliamo la vitamina B1 B2 B3 si possono prendere ma anche la B1 non va presa a bidoni cioè va presa un po' per esempio c'è un prodotto che c'è dentro 300 mg l'ideale è prenderne 150 per bocca c'è le fiale iniettabili da 100 è meglio farne metà meglio farne 50 cioè prendiamo la vitamina ma non pigliamo quantità eccessive perché è sempre un problema quindi è meglio essere più cauti che abbondare prendere le vitamine allora io dico una cosa sono decenni che vivo va bene e non le ho mai prese va bene non le ho mai prese e ho fatto male adesso da quando le prendo ad un dosaggio basso però le prendo tutte minerali prendo un pastiglione di quei pastiglioni giganti che proprio c'ha dentro tutto veramente un'americanata tanto per intenderci no pastiglione grosso che ha dentro tutte ma a dosaggi corretti a dosaggi corretti io sto benissimo non bene ma benissimo cioè lei prende una pastiglia che contiene tutte le vitamine tutte le vitamine le vitamine A la vitamina E tutte le vitamine in quantità regolari basse non particolarmente alte è un pastiglione sono i classici pastiglioni americani che hanno dentro tutto i fervescenti o che bisogna dare giù no no sono da ingoiare ma si bisogna essere capaci di ingoiare perché sono grosse proprio sono pastiglioni si c'ha dentro tutti i minerali tutto ma io da quando le prendo ho l'energia di un ragazzino sto bene viaggio bene perché ho la mente più lucida quindi non serve pigliarne tanto se io ho guardato la formula quando l'ho scelto ho visto la formula sono tutte poco più della metà dell'anno quindi robetta da poco la vitamina C 250 miligrammi che te ne fai va bene non importa io ne ho dentro poco ma di tutte invece c'ho dentro 15 miligrammi di vitamina B3 c'ho dentro un milligramma e mezzo di vitamina B1 c'ho dentro tutte ma in quantità basse ma da quando lo prendo ma io sto in un modo che è scandaloso tanto sto bene sto veramente bene perché mi fa bene poi gli prendo tanto chiuso a me non lo dico questo lo prendo sono onesto questa stavolta lo prendo prendo questo e poi prendo il Q10 gli antissidanti ah il coenzima prendo il coenzima Q10 tra uno e l'altro molto protettivo per il cuore assolutamente io sto veramente bene sto davvero bene e ho riacquistato energia tono e tutto perché sono vitamine fondamentali io le avevo sempre un po' snobbate snobbate come facciamo più o meno tutti però lei voglio dire una cosa se noi facciamo una settimana di digiuno per mille motivi o perché non c'avevamo i soldi da comprare poverini famiglie che ci sono davvero pensiamo una volta una volta si faceva digiuno anche di più giovani perché non c'era da mangiare oppure facciamo digiuno perché siamo grossi e vogliamo fare il digiuno terapeutico per pulire per dintossicare bene quando noi facciamo una settimana di digiuno la vitamina B1 B2 e B3 dove la piglio? non ci sono scorte se non le ho io non ho l'energia per vivere non ho l'energia per vivere quindi io non posso vivere senza queste vitamine ma io non le mangio perché non mangio cibo non c'ho niente da dove arrivano? arrivano dei batteri i batteri nel mio intestino producono costantemente tutte le vitamine che a me servono questa è una cosa importante perché se io già per un motivo qualsiasi non dovessi mangiare per mille motivi le mie vitamine fondamentali essenziali senza le quali non potrei vivere quelle me le fanno i batteri attenzione tranne le vitamine di cui ho la scorta guarda caso vitamina B12 vitamina B9 vitamina A cioè quelle vitamine che io ho potuto mettere a parte quelle vitamine che io non posso ricavare dai batteri guarda caso io ho le scorte certo il mondo è veramente meraviglioso cioè se uno ci pensa io ho tutte le vitamine che non mi sono necessarie perché le posso pre me le fanno i batteri quindi attenzione mi devo avere per i batteri se non c'ho mai che i batteri ma allora mi darò le contellate da solo e purtroppo e adesso noi dobbiamo rispettare la pausa pubblicitaria e purtroppo nell'ultima trasmissione il dottor Lozio ci ha messo in guardia perché un po' per la vita che facciamo un po' per gli alimenti che ingeriamo abbiamo veramente pochi batteri e quelli che abbiamo a volte non sono nemmeno in equilibrio quindi ritorneremo a fare delle trasmissioni sui nostri sul nostro microbiota sui probiotici perché è un argomento molto serio oggi finalmente molto riconosciuto molto attenzionato diciamo così anche dal mondo scientifico prima della pubblicità volevo dire un'ultima chicca quando noi abbiamo quando non noi quando le donne sono incinta va bene hanno bisogno per poter formare l'occhio e le sinapsi nervose del DHA cioè il famoso acido grasso omega 3 ora il DHA le nostre nonne non l'hanno mai mangiato non si poteva manco cosa fosse figli ciechi non l'hanno fatto neanche uno non hanno mangiato gli integratori non hanno mai mangiato pesce perché non era così semplice da trovare da dove lo tiravano fuori il DHA da dove le donne dei berbere del deserto dove lo pigliano il DHA e ci vedono bene i berbere e come ci vedono bene perché semplicemente una donna quando è incinta i batteri dell'intestino prendono gli acidi grassi e i batteri trasformano gli acidi grassi degli alimenti in DHA che è un acido grasso a 22 adrivi di carbonio con 6 doppi legami molto raro perché è molto più raro dell'EPA e viene somministrato viene dato alla mamma alla madre fino all'anno di vita cioè fino a quando il bambino viene allattato intorno all'anno di vita e lei nel latte la madre pur non mangiandolo mai questo acido grasso essenziale e fondamentale se lo producono cioè noi continuiamo a dire essenziale lo devi integrare ma non è vero se c'è i batteri te lo fanno loro te lo fanno i batteri fanno un sacco di cose vivono con noi da sempre poi se li integriamo i batteri fanno altre cose ma se non li integriamo siccome loro sanno che lo devono fare non so come diavolo facciano a saperlo ma le donne si ritrovano pur non mangiando nulla che lo contenga né pesce né omega 3 e di aca in quantità abbondante per poter formare la retina per poter formare è meravigliosa la natura se vuole ci ritorniamo però adesso devo proprio lasciare la linea ho passato alcuni minuti un po' di panico grazie ai nostri telespettatori li invito sempre a telefonare non parliamo solo di osteoporose però stasera anche di vitamine e ci vediamo fra un minuto eccoci qua allora ci stava dicendo delle cose meravigliose nemmeno troppo difficili e affascinanti come i nostri batteri e quindi il nostro microbiota sia in grado di avvertire quando siamo in un momento utopico della nostra vita in un momento di assoluta emergenza o carenza o perlomeno ad esempio in una gravidanza quando dobbiamo formare una vita e a questa vita dobbiamo formare degli occhi efficienti e quindi producono anche i famosi questi aceri rassi introvabili esatto sì che sono gli omega 3 poi l'omega 3 c'è l'epel il dha il dha è fondamentale perché è ancora più fragile esatto ed è importante perché se non c'è quello non ci sono quindi anche in quei paesi o in quei posti dove non si possono trovare alghe pesci o tra i tropici non esiste l'omega 3 ma non c'è proprio da nessuna parte perché renderebbe le membrane troppo eccessivamente fluide quindi non starebbero insieme e avremmo una perdita di recettori e di neurotrasmettitori quindi diventa pericoloso cioè proprio non ci sono le membrane quindi noi dobbiamo mangiare roba roba che fluidifica le membrane nei paesi freddi e dobbiamo prendere invece acidi grassi saturi per le zone dove noi abbiamo molto calore quindi si mangeranno grassi saturi dove c'è caldo e grassi insati dove c'è freddo infatti l'omega 3 dove li trova agli esquimesi e fa freddo è vero e quindi lei man mano va verso il caldo più l'omega 3 cala e invece i tropici cosa dovrebbero mangiare? devono mangiare grassi palmitico infatti le palme sono lì le palme il palmitico l'ostearico l'arachidico questi acidi grassi quindi è funzionale alla temperatura quindi noi siamo temperati quindi a noi va bene un po' e un po' ma senza tutta questa esagerazione che è dove c'è in giro mentre nei paesi caldi assolutamente no allora adesso dovremmo passare le telefonate però lei deve completare una cosa cioè ci ha messo in guardia sulle esagerazioni ecco quindi adesso non chiedetemi qual è il pastiglione che prende il dottor Lozio viene dagli Stati Uniti ma anche lui non si ricorda cos'è e poi comunque la maggior parte delle persone non riesce a deglutire pastiglie grosse sono pastiglie non faccio fatica anche io riesce a soffocamento io le odio quelle lì troppo grosse allora vedete qua le vitamine possibili danni per ricordarci che non possiamo scherzare il fai da te insomma magari un po' per la vitamina C lo possiamo fare la vitamina C lo possiamo fare ma se esageriamo possiamo avere delle diarree per il via del ferro vedete sovraccarico con gli epatocarcinomi gli epatocarcinomi ma anche scompenso cardia o serve per colpa del ferro diabete melito o serve per colpa del ferro attenzione il ferro non è la vitamina C ma la vitamina C mi fa aumentare mi fissa il ferro me lo fissa per cui mi crea il problema quindi non è la vitamina C in sé quindi attenzione possono aggravare i danni articolari autoimmune antiteriomatoide possono perché di per sé la vitamina C non è un antiossidante ma è un anfotero poi un'altra cosa importante la vitamina E funziona benissimo ma attenzione deve essere naturale quindi quella da germe di grano perché soltanto quella naturale forma il gamma tocoferolo che è il lavoro sull'ossido nitrico gli altri no quindi quella sintetica non funziona la vitamina C sintetica è acido ascorbico quella naturale è acido ascorbico è una miscela con un po' di acido di scamari oh madonna di idrossi ascorbico quindi sia una parte ridotta che una parte ossidata ma per intenderci noi come ci dobbiamo orientare prendere la cerola per esempio la cerola piuttosto che prendere la vitamina C secca prendere la cerola è sicuramente meglio anche perché poi la regia ci ha già ritolto si me l'ha tolto tutto no ma io volevo commentare con lei scusi l'abuso di vitamina E può dare anche emorragie celebrali esatto si perché rende le membrane eccessivamente fluide e quindi non possono anche tenere potrebbero sbloccare che sono tutte gli eccessi fanno sempre male ricordate che la vitamina E è liposolubile quindi si accumula attenzione non le dico cosa ho fatto in questo periodo bene devo dire che queste trasmissioni sono utili per tutti anche per la sottoscritta ho abbondato moltissimo con la vitamina C poi per voler strafare mi sono presa anche va bene che io prendo quegli sciroppi naturali mi sono presa anche il ferro quindi ho rischiato veramente grosso dipende cioè qui dentro sono danni che io ho messo con gli abusi se uno prende degli abusi protratti nel tempo perché c'è per esempio adesso l'idea di prendere secondo Paul in 7-8 grammi di vitamina E se c'è una malattia come il covid pigliamola può avere un suo senso ma se non abbiamo un accidente di niente cosa lo prendiamo a fare questo è il problema ma adesso come ci comportiamo da parte che c'è una telefonata io personalmente ne prenderei 2 grammi al giorno 500 milligrammi 4 volte al giorno 500 quindi spesso perché io non accumulo la vitamina C se io prendo 2 grammi in una botta io per 20 minuti che dura più o meno 5 minuti io non ho più un radicale libero in giro ma il radicale libero è oltretutto anche una molecola segnale quindi non è che è solo negativo il radicale libero è una pallottola se ce l'ha in mano il poliziotto fa bene se ce l'ha in mano il delinquente fa male se io la tolgo a tutti cosa facciamo a pugni? non ha senso quindi bisogna prenderne un po' giusta in proporzione corretta questo è il concetto ci consente di rispondere a una telefonata pronto? che abbiamo il video buonasera signora benvenuta buonasera 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 io ho 53 anni e volevo sapere a questa età io ho una psoriasi molto forte e volevo sapere se qualche vitamina in particolare quando le beve sia per le ossa sia per la psoriasi allora le vitamine per la psoriasi sicuramente la C e la E obbligatorie non non facciamo esagerazioni magari anche in in crema ci sono delle creme a posto in cui c'è la vitamina E disponibile in crema sono molto buone anche in spray questi vanno molto bene e la vitamina D sicuramente sulle malattie come la psoriasi vanno bene per quanto riguarda l'osteoporosi l'ho spiegato all'inizio quasi per un'ora lo so perché è un problema che riguarda molte persone a cui non c'è rimedio l'unico rimedio reale che funziona è camminare non c'è altro non ci sono togliamoci dall'idea dei farmaci ce n'è forse uno che potrebbe essere forte però ha parecchie controindicazioni per cui prima di prenderlo si penserei tre volte che sono i biologici che si usano ora questi si vanno usati quando c'è una situazione di osteoporosi drammatica è guai a non usarli insomma quindi quando sono sequele di fratture fratture spontanei vertebrali beh oddio insomma magari un aiutino potrebbe andare bene però ha parecchie controindicazioni non è scefro da rischi come tutti i biologici altre cose non funzionano cioè non c'è veramente un farmaci mi ricordo ancora quattro anni fa ero a un congresso di Gioal Caserta e lì a un certo punto questo il professore di ortopedia dell'università di Tor Vergata ha detto a tutti quelli che erano presenti e dice guardate non esiste nulla per l'osteoporosi che funziona che non faccia appunto tranne questo la cosa che si deve cioè il prodotto che va usato è camminare camminare andare magari un po' in palestra fare un po' di attività fisica mirata specifica senza dare mai strappi sforzi eccessivi perché insomma si spaga su tutto ma ossigenare il tessuto riabituare il tessuto alle micro fratture dovute al lavoro quindi ricominciare da poco a rifare l'osso in modo corretto non c'è altro ma se uno ha l'osteoporosi e sta seduto può pigliarsi i vagonati di vitamina D ma non fa nulla perché la fisiologia dice cammina attenzione invecchiando un po' di osteoporosi è fisiologico quindi un po' di riduzione della massa ossea che gli uomini no cioè la donna in più rispetto all'uomo ha la perdita dell'estrogeno eh sì che è un ormone protettivo in minima parte per cui è la perdita dell'estrogeno che crea una maggior un maggior riassorbimento per blocco proprio dovuto alla serotonina libera che va a bloccare proprio l'operaio lo mette in galera e non lo fa lavorare per cui bisogna ricominciare lentamente non fare cose grosse e accumulare vitamina D accumulare va bene per il sistema immunitario ma non va bene per le ossa cioè se io ho la vitamina D a 70 a 100 non è che le mie ossa mi si saldano eh restano lì perché manca l'operaio manca l'attore finale che utilizza poi il bene strumentale che io gli do io gli do il cemento gli do le piastre ma se che mica qualche che che se c'è quell'operaio non vado a nessuna parte capisce e l'unica roba è camminare camminando un po' si riesce a stimolarne la produzione perfetto allora salutiamo questa è la telespettatrice vero? la telespettatrice sì non sappiamo da dove sì mi sono dimenticata di chiedere magari per cortesia se ci dite va bene che dovrei avere qua io avevo una cinquantaquatrenne che chiedeva una cosa che tra parentesi era in scaletta ma non l'abbiamo affrontato esistono vitamine intanto che la trovo vediamo esistono vitamine in grado di rallentare l'invecchiamento anti-aging in sostanza le vitamine anti-aging sono assolutamente fondamentali siccome il collagene è poi quello che viene espresso maggiormente quindi quando uno comincia a perdere la tonicità del collagene la pelle comincia a cascare la cosa importante abbiamo un'altra telefonata allora poi ce lo spiega sentiamo che è in linea magari se abbiamo fortuna è proprio questa la cosa importante è la vitamina C la Cina? assolutamente vedi? e ce la volevano negare pronto? per invecchiare è pronto buonasera buonasera signora mi chiamo Claudia ho un figlio di 24 anni con l'ostoporosi perché ha disabilità da Piacenza ci chiama sì da Piacenza dato che è importante camminare ma in questi casi non è possibile perché ha la possibilità di camminare ma non camminare per migliorare il discorso di estoporosi in questo caso cosa si potrebbe fare per un minimo miglioramento? ha un ragazzo che quindi ha difficoltà motorie il suo figlio e ha anche l'ostoporosi e questo è un bel problema perché non è di facile soluzione perché il non camminare non implica il non utilizzare il sistema della gravità con le microfatture e lì è un po' un guaio in questo caso questo farmaco qui potrebbe essere che non ho nominato un farmaco biologico questo biologico potrebbe essere l'unica io sono contrario è un farmaco che può avere grosse condecazioni però se il soggetto come il figlio della signora non può camminare l'osteoporosi gli viene cioè se io sto allettato 15 giorni 15 giorni inizia in chiunque di noi l'osteoporosi c'è niente da fare è il movimento è il movimento cioè se una persona sta a letto per 3 mesi 4 mesi e va a fare la MOC si vede che c'è l'osteoporosi cioè lo stare anche a letto per altri motivi eh attenzione non per dire di solito viene fatta una fisioterapia quindi è un movimento passivo ma comunque fondamentale ma deve essere fatto non si può proprio nel caso di suo figlio niente niente proprio signora se non riesce no un pochino cammina un pochino cammina però il problema di base è che lui nel 2015 si è spezzato il femore seduto cioè per cui questo c'è il problema dello stuporoso è un problema che è evidente è molto serio la cosa guardi signora la cosa che lei dovrebbe fare è provare a fare questo farmaco biologico e cercare di rinforzargli le ossa una volta che le ossa sono rinforzate cercare in tutti i modi di fare quel minimo di fisioterapia di movimento che permetta una volta messo su un po' di massa ossea di avere almeno quella e di migliorarla perché adesso se si fa fare attività fisica si spezza perché non c'ha più niente è peggio di un astronauta tanto per intenderci quindi adesso lui deve prima di tutto rinforzare le ossa questo farmaco fa venire fa proprio lavora su questo se lo può prendere sarebbe il caso di assumerlo quando arrivato a un minimo di massa ossea a quel punto può secondo me iniziare quel minimo di attività fisica che gli permetta di mettere su quella robetta che serve signora se vuole poi la mettiamo in contatto direttamente col dottor Lozio ecco magari adesso non si può fare magari il nome del prodotto ma l'ho detto prima in pausa ma in pausa non sente nessuno va bene la ringraziamo per aver chiamato e ovviamente le facciamo tanti auguri per il suo ragazzo ecco grazie come vi dicevo dal tenore delle telefonate è un problema veramente molto sentito un altro problema che è emerso dalle telefonate però non so se riusciamo adesso attivare la chiamata è l'anemia abbiamo guardi una signora da Pavia che chiede appunto se ci sono delle vitamine eh perché qui c'è anche un problema di veganesimo ecco mentre il marito ha dei noduli alla tiroide e chiede se possono essere collegati a carenze vitaminiche ma ne abbiamo altri anche il signor Enzo da Seregno vuole parlare di anemia dice che lui ha la lingua taglietti pensa di avere carenza ha anemia e pensa di avere anche carenza di vitamine c'è un legame c'è qualcosa allora decchialiti c'è quei taglietti sulle labbra taglietti all'interno della lingua questo è il signor Enzo hanno in effetti delle rispondenze soprattutto le vitamine del gruppo B quindi la B1 B2 B3 B4 B5 scusate la B4 non c'è la B5 e la B6 queste sì mentre l'anemia ha tre cause quindi fondamentalmente sono tre può mancare la vitamina B12 può mancare il ferro quindi secondo di che cosa manca oppure non ci sono pochi colpi rossi perché non si producono quindi l'emoglobina è una molecola complessa che ingloba il ferro e questo gruppo M e lì bisogna vedere qual è la causa dell'anemia cioè se perché manca la B12 per esempio si vede il valore globulare che è più alto a superi 100 per esempio bisogna capire qual è la causa non c'è una causa sola dedicheremo magari più attenzione in una prossima trasmissione ma volentieri però bisogna vedere alcuni esami del sangue si fa l'emocromo con formula si capisce e quindi dalla lettura dei risultati si capisce qual è l'origine di quell'anemia esattamente perché l'anemia perché di solito si dice sempre carenza di ferro ma non è vero perché ci sono le anemie megalobasiche che per esempio sono da carenza di B12 cioè non c'è la B12 e chiaramente non si forma quindi bisogna capire B12 che è una gran bella vitamina ti dà veramente molte energie però per esempio è solo è solo animale è solo animale la B12 nelle piante non c'è e quindi i vegani sono inguaiati la devono assumere come io non so perché loro dicono nella spirulina che poi c'hanno a battere la spirulina c'è dentro la B12 è vero ma non è assorbita i batteri fanno la B12 è vero ma non viene assorbita è l'unica vitamina che ha bisogno del transito gastrico perché la B12 deve essere legata al fattore intrinseco se no non può essere assimilata perché quando arriviamo alla zona ileale dove si assorbe anche la vitamina C c'è un recettore che non vede la B12 ma vede il suo trasportatore perché una B12 senza trasportatore non serve a nulla e ho capito ma se la assumono per bocca cioè come integrazione se la prendono per bocca transitando nello stomaco il fattore intrinseco prodotto nello stomaco la lega tanto quella che viene presa è una proteina è una vitamina di sintesi di origine sintetica o viene dagli animali anche quella lì Dio adesso mi manda tutti i vegani in tista è abbastanza complicata da fare ma si può anche fare però è abbastanza complicata è un vitaminone perché è bello grosso mentre l'acido nicotinico la vitamina B3 è piccolina bene la vitamina B12 è la più grossa di tutto è un bestione non è quindi tutto si può fare chimicamente ma a quel punto vale veramente la pena farla da lì si estrae più che altro dal sangue percolato e si tira fuori quindi secondo me è più da estrazione della B12 però dal sangue degli animali? si tira fuori dai globuli rossi il globulo rosso lo tira fuori da dove? la B12 è all'interno del globulo rosso quindi sta all'interno o della mioglobina o dell'emoglobina quindi la mioglobina è quella dei muscoli quindi quando io mangio il bisteccone mangio anche la mioglobina quindi mangio la vitamina B12 rosso pure è dal sangue cioè non è che sta chissà dove d'altro canto le piante non ce l'hanno perché la pianta ha la clorofilla cioè hanno la sidisi clorofiliana ecco e se un animico prendesse la vegano prendesse la clorofilla? non è la stessa roba ma quasi cioè la pianta la pianta usa la clorofilla e la sidisi clorofiliana noi invece usiamo la la l'emoglobina si sangue abbiamo il sangue noi abbiamo bisogno del ferro sa che siamo in chiusura perché il ferro è lì ma la pianta usa all'interno della molecola invece che il ferro usa il magnesio io però devo usare il ferro perché non è la stessa roba perché poi il magnesio è valenza 2 il ferro è valenza 2 e valenza 3 quindi non è così semplice no no pensavo che fosse una trasmissione più semplice invece è venuto fuori motivo di riflessione perché non è facile d'altro canto per concludere cosa possiamo dire che ormai siamo veramente le vitamine le vitamine vanno prese e se voi non riuscite a prendere le vitamine almeno abbiate la decenza di avere un buon sistema probiotico nell'intestino perché almeno alcune vitamine essenziali loro ve le fanno non la B12 perché ha altri problemi di assorbimento ma le altre vitamine ve le fanno pensiamo di ecco quindi la B1 la B2 la B3 sono essenziali se no voi non avete la benzina per lavorare servono per fare alcune operazioni di chimica uno mette un gruppo carbossilico l'altro lo toglie l'altro lo mette sono tutte cose che sarebbero complicate da stare a spiegare ma fondamentalmente è un'officina ha bisogno di strumenti la vitamina è lo strumento è il cacciavite la chiave inglese che permette di aprire tutti i meccanismi dovete averli e se non li avete perché non li avete mangiati almeno i batteri in parte ve le possono non tutte ma alcune ve le danno e le liposolubili dovete assolutamente cercare di averle perché quelle sono problemi a non averle perché se non ci sono quelle non ve le fa nessuno vitamina D viene prodotta dal sole ma attenzione ai raggi incidenti cioè quindi d'estate ecco domande ricorrenti d'estate possiamo smettere di assumere l'integrazione possiamo anche smettere di prenderlo a meno che noi non ci svegliamo a mezzogiorno e andiamo in spiaggia questo non va bene è il sole del mattino massimo fino alle 11 del mattino che trasforma il colesterolo in vitamina D dopo no quando il sole abbronza io ho gente che si è carbonizzata in Sardegna e tornata che non aveva vitamina D zero ed era carbonizzata proprio veramente se restessimo qui un'altra mezz'ora ci racconterebbe tante cose e altri aneddoti però dobbiamo veramente chiudere io sono felicissima di chiudere il ciclo con una trasmissione che ha proprio le caratteristiche per essere assimilata bene con questo vi saluto saluto il dottor Lozio lo ringrazio infinitamente ricordo a tutti voi sempre il suo sacrificio il viaggione che si deve purtroppo sorbire fino a Trieste lei ha scelto una bella città ma insomma stasera torno a Milano ah beh allora è tutto più comodo comunque vi auguro veramente tanta tanta salute lo so che le nostre trasmissioni poi vi lasciano talvolta un po' in confusione ma ve le potete rivedere rivedetele anche le repliche andatele a cercare e piano piano capirete come del resto faccio io capirete un pochino meglio certi meccanismi che sono ahimè davvero complessi ma è giusto saperli grazie ancora e grazie a tutto il mio team di lavoro che è stato come sempre prezioso sia nella fase di emergenza che in quella della normalità posso sempre contare su persone appassionate e serie grazie grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori